Ciao ragazzi, siamo appena arrivati a Sappada, in questo luogo fantastico. Siete gli ultimissimi. Vai, ecco, ora partiti. Non poteva esserci una festa di Natale senza la canzone di Mariah Carey. Farete un sacco di amicite nuove. Dopo questi quattro giorni, come vedete, è l'ora di tornare di nuovo a fare un viaggio in omicimania. Magari è lo spring break, magari. All I want for Christmas is you. Cos'è ci dici? Allora, siamo qui, stiamo ciascolando e niente. Non cadermi da ferma. Mamma mia, ma chi sei? Sembri uno che è sponsorizzato da qualcuno. Cioè, devi essere un ciaspolista professionista. Chi è questa bella ragazza? Dove andiamo? Andiamo a ciascolare, fatti fare. Oh, la, il tuo ragazzo cosa dice? Oh, la, il tuo ragazzo. Chi è la ragazza? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti